Salve a tutti, di nuovo qui. Arrivati a questo punto, dopo aver analizzato la critica ai falsi socialismi di Marx, espressa nel manifesto del Partito Comunista, ma anche in altri scritti, dalla critica al programma di Gota fino a Miseria della Filosofia, possiamo cominciare a analizzare il capitale, in cui verrà esposto il metodo scientifico marziano, ovvero il socialismo scientifico e l'analisi sui meccanismi strutturali della società borghese, al fine, come leggiamo proprio nel testo, di svelare la legge economica del movimento della società moderna. Questa è una citazione presa direttamente dalla prefazione al libro primo. Innanzitutto cominciamo a dire che il fatto che il capitale Rechi, come sottotitolo, la formula critica dell'economia politica rivela l'esplicita contrapposizione di Marx all'economia classica. Come si è accennato, Marx si differenzia dai grandi teorici dell'economia borghese, Smith e Riccardo, soprattutto per il suo metodo storicistico e dialettico che abbiamo analizzato e sviscerato nelle parti precedenti. Infatti, a differenza di tali autori, egli è convinto, e questo è fondamentale non solo per distinguerlo da Smith e da Riccardo, ma anche per distinguerlo dal positivismo, Marx è convinto che non esistano leggi universali dell'economia e che ogni formazione sociale abbia caratteri propri e leggi storiche specifiche. Le leggi che, per esempio, valgono per il feudalesimo, non valgono per il capitalismo. Marx ritiene, inoltre, che la società borghese porti in se stessa le contraddizioni strutturali che ne minano la solidità, ponendo le basi oggettive della sua fine. Infine, egli è persuaso che l'economia debba far uso dello schema dialettico della totalità organica, mutuato, ovvero preso da Heger, e studiare il capitalismo come una struttura di cui gli elementi risultano strettamente connessi. Questa è una parte molto sintetica, anche molto esplicativa, e soffermiamoci soprattutto su questo passaggio, che Marx ritiene che la società borghese porti in se stessa le contraddizioni strutturali che ne minano la solidità, ovvero che dentro la società borghese ci siano già i germi della propria autodistruzione. Questa citazione la saltiamo, perché penso che il testo sia già di per sé chiaro, soffermiamoci su quest'altra parte introduttiva, che è collegata comunque alla prima che affronteremo in dettaglio alla fine con la caduta tendenziale del saggio di profitto, il carattere tendenziale delle leggi economiche. Anche questo è fondamentale per capire Marx, perché un'altra caratteristica del metodo di Marx è di studiare il capitalismo distinguendone gli elementi di fondo e astraendo da quelli secondari, al fine di mettere in luce le caratteristiche strutturali e le tendenze di sviluppo per poi formulare su di esso alcune previsioni. Quindi non per dire deterministicamente, per affermare deterministicamente quello che avverrà il determinismo, anche per Marx come per gli altri esponenti della filosofia classica tedesca è roba del passato, è roba da 600-700. Infatti, dal lato, il carattere tendenziale delle leggi rilevate, si sa, quindi soffermiamoci sul discorso del tendenziale, che a ogni tendenza può contrapporsi una controtendenza frenante, cioè una tendenza, non è una relazione univoca e unilaterale. Il capitalismo ha delle tendenze che Marx disvelerà nel capitale. Esse, queste tendenze, non vanno assolutamente confuse con le profezie. Marx non è un autore profetico, anche se molti commentatori e soprattutto molti detattori hanno ravvisato in lui una sorta di profetismo. Tuttavia, la scarsa rigorosità linguistico-concettuale di Marx, che a questo proposito parla talora di tendenze operanti e effettuantisi con bronzea necessità, e questa è la prefazione del primo libro del capitale, o del fatto che la produzione capitalistica genera essa stessa la propria negazione con la fatalità che presiede i fenomeni della natura, fa sì che il capitale sembri presentarsi come un libro di predizioni circa i destini futuri del capitalismo moderno, e che, come tale, sia stato letto da parte del movimento operaio seguente o dai critici di Marx, i quali lo hanno facilmente assimilato a un testo di profezie sbagliate, praticamente quello che vi stavo dicendo prima, che c'è un problema nel capitale che è un problema di tipo, diciamo, linguistico-espressivo. A volte Marx, nonostante il suo meritevole rigore, si lascia trascinare dalla sua penna, dalla sua penna di giornalista provocatore, e ci regala queste massime. Però, noi dobbiamo cercare di leggere i concetti marziani con tutto il rigore possibile, lo stesso rigore che Marx impiegò per realizzarlo. Andiamo un attimino, quindi, sul metodo, la metodologia scientifica del capitale. Come abbiamo anticipato, durante la stesura del capitale, Marx sentì con forza la lezione della dialettica hegeliana, al punto di affermare che la scienza della logica lo aveva profondamente influenzato ed era presupposta in ogni pagina del suo trattato economico. In realtà, come affermano molte fonti biografiche e documentarie, Marx, prima di redigere il capitale, si rileste completamente e integralmente la scienza della logica di Hegel. Abbiamo visto, nella sua fase giornalista del suo pensiero, il che il filosofo avesse inteso correggere la dialettica di Hegel rovesciandola, ovvero trasformandola da idealistica in materialistica, continuando tuttavia a reputarlo uno strumento rinunciabile dell'analisi della società. Nella fase centrale della sua esistenza, approssimatamente tra il 1845 e il 1857, il Marx della maturità, Marx sembra invece per lo più accantonare nelle sue opere la prospettiva dialettica, in particolar modo nella miseria della filosofia, riscontrandola, sì, in alcune situazioni oppositive, padroni schiavi nel mondo antico, padroni e proprietari nel modo di produzione capitalistica, ma senza ergela a regola del processo storico. Nel capitale, invece, il filosofo ha nuovamente bisogno della dialettica come forma da conferire ai fatti, come loro principio interpretativo sistematico. In un testo che non voglia essere una storia dell'economia, ma che intenda accogliere l'essenza del modo di produzione capitalistico in generale, nella sua universalità, cioè attraverso i singoli fatti, ma nello stesso tempo al di sopra di essi, l'orizzonte dialettico sembra essere il più appropriato. La mole gigantesca delle analisi storiche economiche prodotte da Marx in centinaia e centinaia di pagine resterebbe priva di un'unità interpretativa senza un assunto metodologico di natura dialettica. Questo è molto chiaro. Se la dialettica, e qua ve lo sintetizzo, era rimasta molto implicita nelle opere che andavano dal 1945 al 1957, pur restando una forte tensione verso le opposizioni, attenzione verso le opposizioni padroni e schiavi, padroni e operai nel corso della storia, essendo, diciamo, anche in alcune scelte linguistiche, in alcune figure retoriche che Marx utilizza spesso anche i titoli. Lui utilizza spesso la figura retorica del chiasmo. Infatti, per esempio, note sono le espressioni di questo periodo quali la miseria della filosofia che è il rovesciamento, il chiasmo di filosofia della miseria che era il titolo dell'opera di Bruton. Come passare dalle armi della critica alla critica delle armi. Un altro rovesciamento, un altro chiasmo. Un chiasmo che, diciamo, voleva, contro le costruzioni della sinistra eicheliana, stabilire una nuova relazione con la prassi dalla critica, diciamo, dalle armi della critica alla critica delle armi. Detto questo, andiamo avanti. Nel capitale, sulla base del materiale accumulato nelle descrizioni storiche economiche, Marx si propone di individuare gli elementi strutturali separandoli da quelli accidentali. Lo stesso concetto di reale e di concreto subisce così un mutamento significativo poiché il filosofo finisce per considerare astratto ciò che a prima vista appare concreto e concreto ciò che a prima vista appare astratto. Ad esempio, nello studio dell'economia sarebbe plausibile iniziare considerando la popolazione in quanto soggetto della produzione, ma quello di popolazione risulta essere un concetto astratto se si prescinde dalle diverse classi sociali che di fatto la compongono. A sua volta il concetto di classe sociale ha ben poco significato se non si considerano gli elementi su cui le classi sociali vengono a costituirsi, ossia i rapporti di produzione e così via. Quindi, diciamo, nel metodo scientifico perché stiamo piano piano entrando nel vivo, abbiamo anche questo tipo di rovesciamento dialettico, posizione, negazione, superamento della negazione. Infatti, questo significa che la scienza non è una semplice rappresentazione fotografica dei fatti in quanto tali, secondo Marx, sulla scorta della lezione hegeliana, bensì l'individuazione al di sotto dei fatti delle leggi che presiedono a loro accadere, cioè andare oltre i fatti. Infatti, nota è l'espressione marziana, se le cose fossero come immediatamente ci appaiono, non ci sarebbe bisogno di scienza. Invece no, della scienza c'è bisogno perché le cose non sono come ci appaiono nell'immediato. Detto questo, in altre parole vi sono delle condizioni generali, l'espressione è dello stesso Marx, che devono essere riconosciute, ma, a differenza delle leggi della dialettica hegeliana, e questo è molto importante, esse non sono a priori, ovvero fondate sulla ragione, bensì a posteriori, cioè da rinvenirsi all'interno della storia. Prima della realtà materiale non esiste alcuna stratta essenza originaria che poi si incarna nella concretezza dei particolari come accadeva per le figure per esempio della logica hegeliana. Le figure della logica hegeliana erano traistoriche, cioè prima erano appunto delle categorie a priori in quanto categorie astratte che poi passavano dialetticamente alla fase della concretizzazione. Invece per Marx le leggi sono tutti a priori non c'è nessuna trascendenza non c'è il trascendentale come in Kant non c'è l'astratto come in Hegel tutto avviene nel piano dell'immanenza che è un piano a posteriori. Infatti esistono soltanto nazioni generali a cui si perviene mediante l'indagine del pensiero dopo i fatti ovvero a partire da essi. cioè prima vengono i fatti e poi le idee che superano i fatti quindi questa potrebbe essere l'esempio della dialettica dell'immanenza passiamo questa diciamo una parte introduttiva poi passeremo comunque all'analisi dei concetti nella video lezione successiva andiamo sull'ultimo punto un punto molto essenziale molto rassuntiva tra economia classica e idealismo la concezione della scienza e di conseguenza la metodologia scientifica di Marx possono essere meglio comprese osservando la concreta applicazione del capitale nel capitale qui possiamo individuare tre tappe fondamentali la ricerca della documentazione l'analisi del materiale raccolto l'individuazione di un principio generatore allora per ricordarci bene e fare una connessione con il percorso storico biografico di Marx stesso noi abbiamo detto nell'introduzione quando presentevamo un po' la sua vita molto travagliata che lui finì i suoi giorni nel British Museum di Londra che era la più grande biblioteca presente sulla faccia della terra e quindi nella presenza di Marx nel British Museum ci troviamo i due punti la ricerca della documentazione dove nel British Museum l'analisi del materiale raccolto sempre nel British Museum e da qui l'individuazione di un principio generatore infatti quest'ultimo come abbiamo chiarito non è un universale astratto ma una concreta forza storica che tuttavia l'analisi e la riflessione trasformano in un modello generale a cui si conformano le singole situazioni particolari si tratta potremmo dire di una forma in qualche modo assimilabile a un tipo ideale per usare la terminologia di Max Weber in tal modo Marx si oppone da un lato ha la l'ipostatizzazione delle categorie dell'economia politica operata dagli economisti classici sottolineando il fatto che ogni concetto universale sta comunque all'interno della storia perché si attua in un determinato sistema storico economico questa è la grande novità introdotta da Marx stesso non ci possono essere leggi in questo caso leggi economiche che valgono sempre e comunque no le leggi economiche sono da associare a un contesto storico economico in movimento in trasformazione e impossibile superamento dall'altro lato però all'inversione idealistica della relazione tra stat e concreto ricordando che l'idea non è che il risultato di una strazione metodologica a partire dalla realtà concreta la quale mantiene sempre la sua priorità con questo metodo di analisi Marx perverrà l'individuazione di un unico concetto base quale fondamento del modo di produzione capitalistico ovvero il concetto di valore al quale come vedremo meglio nel prossimo paragrafo ogni altro aspetto del sistema economico merce denaro scambio è riconducibile anzi partendo da tale concetto il filosofo metterà risalto l'intrinseca contraddittorietà dell'intero sistema quindi l'individuazione di un principio generatore qual è? è il valore alla luce di queste considerazioni possiamo meglio comprendere in che senso il capitale non sia soltanto un libro di economia al di là degli assunti filosofici che presidono la stesura dell'opera nella sfera dei rapporti economici Marx vede la chiave di spiegazione nella società nel suo insieme per questo l'opera non è lo studio di un ambito o di un segmento della vita reale serrato dagli altri ma una sorta di riproduzione critica della civiltà capitalistica intesa come struttura complessiva ok dopo questa introduzione possiamo fermarci riprenderemo alla prossima analizzare tutti i concetti fondamentali del capitale a partire proprio da quello del valore alla prossima